Sono circa 30 i lavoratori in forza alla società boffetti che da settimane stanno cercando di avere chiarezza sul futuro dell'azienda nell'indotto di Enimed a livello locale. I sindacati del settore con le segreterie di FIOM, FIM e Wilm hanno già chiesto incontri ai vertici della società e a quelli di Sicindustria. I tempi si sono allungati e gli operai che svolgono attività elettrostrumentale non riescono a comprendere se effettivamente possano esserci ostacoli nel proseguimento del loro rapporto occupazionale con la società. Da settimane si tenta di avere informazioni concrete spiegano i segretari delle sigle sindacali del comparto di Caro, Pistritto e Calabrese. Da circa un mese si rincorrono infatti voci interne spiegano ai sindacalisti rispetto proprio alle sorti e l'importante realtà aziendale. Secondo gli stessi sindacalisti si lasciano presagire nuovi scenari. I segretari quindi tornano a premere sulla necessità di un incontro urgente per dare certezze effettive. Ricordano di aver sempre avuto relazioni sindacali concrete con la proprietà di Boffetti. Il dubbio è che l'azienda possa perdere il contratto in essere con Eni. Questo determinerebbe delle evidenti conseguenze anche su un piano strettamente occupazionale.